Al di là dei risultati la squadra sta lavorando molto bene in queste prime settimane, le sensazioni positive che ci siamo confrontati tra staff e società in queste prime settimane, molto positive anche l'approccio alla partita con Cagliari al torneo di Sassari non è stata delle migliori, secondo me c'è mancata l'aggressività, quella che ha contraddistinto le prime partite interne che abbiamo giocato con Green Palermo e Agrigento. Si è visto quella, la voglia di riscatto che ha questa squadra nei singoli giocatori, la voglia di giocare insieme e di cercarsi, a differenza dello scorso anno secondo me c'è un po' meno talento però compensiamo con l'aggressività la voglia di stare in campo e di dimostrare a ogni singolo giocatore che può dire la sua in questo campionato e si può fermare. La dimostrazione sono i ragazzi come Nenad che comunque sta crescendo, Marco Mollura che è un ritorno gratuitissimo per la società e tutti, Spizzichini che comunque lo scorso anno ha subito una retrocessione, ha voglia di riscatto, voglia di dimostrare che in questa categoria ci può stare. Quindi è quello, la forza di questa squadra sarà determinante, sarà l'aggressività e la voglia di lottare. Questo signore che vediamo palleggiare adesso? Questo signore è il playmaker, non siamo riusciti a portarlo per un problemino al timpolo che ha avuto durante la scorsa settimana, abbiamo preferito evitare il torneo però sta lavorando, anche lui è un grandissimo lavoratore, tutte le mattine in palestra con voglia di fare ed aiutare anche i più piccoli a crescere. Per i suoi impegni questa settimana, venerdì e sabato, giochiamo a Reggio Calabria contro Reggio e Napoli che è stata promossa in A2, due squadre che sicuramente ci ritroveremo a affrontare subito in campionato e quindi dobbiamo studiarle, dobbiamo valutare anche noi al completo come siamo perché l'ultimo trasferto ci è mancato il playmaker e ancora non siamo riusciti a giocare una partita insieme, quindi quello sarà un test importante. Assolutamente. Salute in campo.